Ovviamente è una domanda a cosa faccio a fin altro, a come le vendette, che i siervi e i primi ci trascendiamo la parte, la parte che poi è un'ottima interessante di interso la città, subisce il testamento, con direttamente la scelta, 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 C'è quello di dire che se scegli certamente qualche prima persona, la minima, c'è il dopo, 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 il dopo. Il dopo, il dopo, il dopo, il dopo, il dopo. Il dopo, il dopo, il dopo, il dopo, il dopo. non esistono tanti mangiamenti di vessimità, ma che non è tanto questo, ma è il ragionamento che si è assertivo. Quello che dicono, è molto interessato, ma quali pensi nella realtà del modo che questo sostanzio funziona ancora? Quando si parla dei capaci investimenti, allora mi pare di poter dire che io non sono naturalmente di trovare eventuali risultati. E' diverso, il personale che io ho, è il risultato spesso ammimato, il senso essenziale all'interno di vessimità di vessimità. E' un testo importante, insieme a questa fase, dovrebbero andare un po' a testo, insomma. La fase di senza oggi nonostante. La rete è stato tutto il giudicimento di, da, 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 di ossidità, insomma, di contributi, ehm, c'era, d'acqua. Insomma, si capisce come in anno, ho spesso, eh, di essi, ehm, un, parziale, di essi, un, parziale, di essi, un, parziale, di un'attività, di un'attività, di un'attività, che, ovviamente, non è stato fatto più meglio, è che, se non è stato più contatto con queste qualità, troppo spazio, io, stai nemmeno, ehm, ho avuto tutto di presente su questa rete. Ma credevo, almeno, che quella rete, in qualche modo potesse migrare, per questo modo, a fare un'attività successiva, le condizioni, per esempio, di rispondere a 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 rispondere. Non c'è l'attività, ma non c'è lo stesso modo, e questo è un corso, lo stesso modo, che ci sta. Nemmeno, non c'è la nostra esempio di mani, perché non va a fare un strutturamento, un miscindale a rispondere, se ne fuori più vanno, nemmeno, il vento, il vento di sarebbe, come detto, quello che è giudificato, nell'anno 62, e che è resta, nemmeno in questa, se riesce, a fare qualche cosa stavante, lui, lui, non vuole essere, non crede una nottura, anche importante. La domanda, c'è andata, se ci sta, ma c'è lì che c'è lì va, E' come se dicessi, che voglio dire nel 46 e nel 48 e facciamo così, ma essendo complessivo, è la libertà di indietro, che significa che non possiamo fare in qualsiasi scuola. Ma la loro scuola non è una maggiore cosa, se facciamo una scuola per me, io ho lo sconente di riuscire a chi voglio esistere, dellaicità di abitazione ecc. eccetera, ma anche di scelto, quello fatto, il contatto di un atto, sapete, che ha anche il senso di, che guardate, il mio vivere sociale, il mio, il mio, il mio, il mio, il mio comportamento, il comportamento, il comportamento, anche il contatto, dalla scuola, anche il colorato, il campo, qui, anche i studenti, le persone che, insomma, io ho avuto un lavoro con un piaccio, eccetera, allora questo tipo di scuola, non è, ma non è, ma non è di da doppio moda, ma qui si sceglie, ma qui si sceglie, ma qui si sceglie, se vanno parlando a casa, e se vanno parlando a un po' con il cuore dei comuni, si indica che gli ingegnati comuni, se no, e loro non c'è, soprattutto quello che manca, manca la catturità di questa situazione, poi, dico una cosa molto semplice, ma se io sempre manca la catturità, per chiamarle le scuole, le scuole vanno insieme, non è più, ci sono una catturità di interventi, puramente di interventi, e le scuole che abbia più da loro, sono le mani passati, queste prime sentiamo il ruolo, ho capito bene o te? Non so se da carta, ma, per esempio, un'azzo, dove? D'acqua, dove, 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 per un altro motivo. Guarda, ci sono i campi, non ci sono i campi, ma forse si infatti è un'altra cosa, ma un nuovo posto, già di vita, di vita, di vita, di vita, è un modello, e poi, perché non è un momento da tutti si fuori, era anche un modello come tutto, e tra le loro cimenti, non vuoi dire capace di trovazione. Ecco, quello che azionale è ancora quanto funziona, non vuoi dire che l'avevo a Roma, è anche l'importante dell'att �nale di. Ma l'ultimo fatto tutto per il nostro Stato D'תronom ça, è un fatto zittà che è chiaramente durato, ma scus GPI per consequence, indignati da volontà delle idee, del nostro spazio, crompre la a dare il tuo sito, dei pagani, dei signori… da fare il meglio di voi, perché voi voi ha nascita in testo un po' di stagione di questa… Adesso, un avventorio del governo di un buonanato. Fa fare qualcosa che si dice, sma con un sforzionale e dice, no, è un problema che si dice, su questi cosa, ma il bambino… ha visto un Ahora se no, č un'epidotività, che era spazzicata da un'arcol doorcare… divi di città.